in canada puoi comprare una natura in repubblica cieca un bicchiere di birra a dubai puoi prendere un bel kebab in india una vostra scelta di riso in egitto vuoi prenderti un piatto di riso in francia come non mancare la bella baguette a hong kong puoi prenderti una lattina di coca cola in giappone una bella barretta sneakers in italia una tazza di caffè in russia due chili di patate negli stati uniti una tazza di pizza